Esker ragazzi da Omega e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters Questo è un video diversissimo per quanto riguarda il canale Come potrete notare non c'è facecam, non c'è nulla, solo io, le mie mani, la mia voce e qualche prodotto da vedere Allora signore e signori, cosa andiamo a fare oggi? Spesso e volentieri mi chiedete Omega, Marco, quali prodotti usi per proteggere le carte, per i tuoi mazzi più costosi, i tuoi mazzi full foil e non? Visto e considerato che il video su Rattiro di Midollo è andato molto molto bene Colgo l'occasione per parlarvi appunto di qualcuno dei prodotti che utilizzo Piccola premessa, questo video naturalmente non è sponsorizzato Anche perché non vedo la logica in un'azienda di sponsorizzare un canale piccolo e insignificante come il nostro Ma vabbè, questi sono dettagli Detto ciò ragazzi partiamo, abbiamo qui i miei mazzi pimpati, ratti e ancora con le buste vecchie E lo andrò a imbustare in questo preciso momento Allora signore e signore, lì dietro sullo sfondo vedete i miei tre mazzi full foil di cui ho già parlato Ho già portato in quanto costa il mio mazzo di tutti e tre Come portamazzo partiamo subito, utilizzo gli Alcove Flip Che sono questi bellissimi portamazzo della Ultra Pro Molto molto resistenti, hanno un materiale veramente bello Sia al tatto che visivamente hanno una buona cura dei dettagli e sono molto 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 resistenti Possiamo notare dentro i simboli delle guild di Ravnica E ragazzi una delle cose che amo di questi portamazzo è che sono leggermente più larghi di quelli normali dati per 100 o più Molti portamazzi dati per 100 o più in realtà non riescono a contenere un mazzo full foil double sleeved Quindi io sono obbligatoriamente portato ad utilizzare questi Ma ripeto, sono molto molto belli, costano leggermente di più dei portamazzi normali Guardate che bello questo blu con la gilda IZ per il mio Godwick E andiamo a vedere l'ultimo che è quello di Gargos Ripeto, materiali molto molto buoni, molto resistenti Fino adesso non ho mai avuto problemi Ma passiamo a qualcosa di nuovo, ovvero l'Alcove Flip che ho scelto per il mio Rodimidollo L'ultimo mazzo che ho finito di imparo Ovvero questo Alcove Flip, sempre naturalmente ultra pro Brandizzato di Caldain, signore e signori Ora l'ho preso un po' scatola chiusa perché non so in realtà bene se la qualità sia la stessa Se per la stampa andiamo a perdere qualcosa L'ho pagato abbastanza caro, piuttosto vi metto il link in descrizione Questo è un prodotto molto premium e molto limitato Quindi nel caso compratelo velocemente se volete farlo Perché su MKM ce ne sono veramente, veramente pochi Ma andiamo ad aprirlo Se riesco Ecco, già noto come problema per un prodotto premium L'imballaggio fatto in questo modo e non con una scatola di cartone Come erano quei portamazzi da dietro Che ci porta ipoteticamente a rovinarlo con le unghie che non ho però insomma Ok signore e signori ce l'abbiamo fatta Ci ho messo veramente tanto tanto tempo Comunque il materiale infatti vedete che già l'ho rovinato con le unghie Male 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 oltre a prova Vabbè ragazzi sinceramente va bene così Allora il materiale mi sembra non è lo stesso Ok? Questa è una pelle molto più resistente Questa leggermente meno Ma probabilmente magari è un'impressione anche data dalla stampa Perché è stampato Io speravo se rilievo In realtà è una stampa Mi sembra che la grandezza sia uguale, identica Signori Quindi dovrebbe contenere senza problemi il mio rodimidollo full foil Andiamo a vedere intanto dentro se ci sono brandizzati Uh, 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 ok 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 Designed by Apple in California Bello, molto bello all'interno Molto molto bello È letteralmente uguale Sì come Come forma Calamite Eccec Eccec Quindi Ottimo acquisto Meno male l'ho preso un po' a scatola chiusa E per fortuna si è rivelato un ottimo acquisto Passiamo ad altro Perfect Molti mi chiedono informazioni sulle Perfect Sinceramente non ho una marca specifica Utilizzo le Dragon Shield perché sono quelle che più si trovano Le Ultra Pro non mi piacciono Le KMSI sono perfette ma è difficile trovarle nei negozi Ultimamente sto utilizzando queste della Blackfire ragazzi Che sono letteralmente spettacolari Sapete che a volte può capitare comunque di trovarne magari una Un po' più grossa Una un po' più piccola Una che ti piega la carta Una che fa questo Una che fa quello Queste ragazzi non ho fino adesso Ne abbiamo presi veramente tanti pacchi Mai avuto un problema Intanto mi sono preparato una carta non double sleeved di Ratti Una carta vecchia Una carta curvata Quindi nel caso potrebbe dare problemi Ma come vediamo proprio Non sto facendo assolutamente nessuna forza Zero forza ragazzi Perfetta Precisa ragazzi Proprio zero Queste sono Perfect che assolutamente vi consiglio Le sto utilizzando da Ripeto poco tempo Ma ci abbiamo bustato tantissimi mazzi Anche molti con Mandra di Moxie E si sono rivelate ottime Ovviamente per quanto mi riguarda Sconsiglio totalmente le side loaded Quindi quelle che si caricano dal lato E sono letteralmente inutili Non le userei nemmeno in punto di morte probabilmente Un altro prodotto che consiglio Se volete una protezione devastante Questo è il mio mono blu è un mazzo che attualmente viene più di 8 mila euro Perché molte carte sono schizzate tanto in alto Un po' di carte della riserva sono salite Quindi questo mazzo attualmente sta sugli 8-10 mila euro E utilizzo le Perfect della Dragon Shield Guardate guardate bene Queste qui Reshealable Vedete che c'è un altro strato Un altro strato che noi andiamo Letteralmente piano piano Fate con calma Se no ragazzi possiamo rovinarle Possiamo piegarle A infilare qua dentro E piano piano Si spinge Tatatatatatatatatata Di modo che gli diamo una protezione extra Protezione extra Purtroppo Ma naturalmente Compensata Da uno spessore Extra Quindi se non andassimo ad utilizzare Questi portamazzo Probabilmente non riusciremo a infilare i mazzi Da nessuna parte Full foil Double sleeved Con Queste Buste A proposito di buste, Omega, quali buste utilizzi per i tuoi mazzi? Allora, naturalmente abbiamo dei mazzi full foil, abbiamo delle bombe molto costose, carte da 1000 pus euro, quindi dobbiamo proteggerle in un determinato modo, insomma, direi che la cosa è più che logica. Quindi ragazzi, per tutti, tutti, tutti i miei mazzi impati io utilizzo delle buste premium, come ad esempio qui abbiamo una versione speciale delle Dragon Shield di Pasqua di qualche anno fa, non costano dire al vero più delle altre, però sicuramente sono più belle alla vista. Ovviamente io metto sempre una busta diversa ai comandanti e poi il mazzo lo imbusto con delle altre buste, tipo qui Godwick abbiamo questo per appunto distinguerlo, mentre le restanti carte del mazzo abbiamo questo appunto di Pasqua. L'ultima avanzata l'ho tenuta per Gargos e su Gargos avremo poi, pa pa pa, pa pa, queste qui verdi appunto, mentre su Godo utilizzo queste bellissime ma bellissime Dragon Shield natalizie, 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 che sono spettacolari col gattino che guarda il drago fuori dalla finestra. Ora, cosa ho scelto per Rodimidollo? Allora, busta di Rodimidollo che non si cambia in questo caso, abbiamo My Little Pony, cioè è un po' rovinata però è spettacolare. Cosa ho scelto? Queste bellissime buste, in edizione limitata naturalmente, di Batman, in onore 1 alla mia maschera qui sul canale, ragazzi, 2 ovviamente al fatto di essere topi, pipistrelli, ratti, che tra l'altro possono anche imparare a volare e guardate la deck tech, il quanto costa il mio mazzo del mio Rodimidollo per capire quello che sto dicendo. Andiamo ad aprirle, se ovviamente riusciamo, signore e signori, ho le mani totalmente distrutte, si vede che sto lavorando veramente tanto. Queste buste le avrete viste sicuramente in tantissimi video perché le ho prese tipo l'anno scorso e poi non ho più finito Ratti Full Foil. Allora, naturalmente matte, io le preferisco matte, ma le Dragon Shield sappiamo benissimo che comunque la qualità è quella. Guardate che spettacolo. Bellissime, molto molto belle. Sottili sono, madonna, sono molto più sottili rispetto alle normali Dragon Shield e soprattutto, ragazzi, per il Double Sleeve sono non sensazionali di più. Adesso sono un po' scomodino, ma fidatevi che è abbastanza... Ok, ok, poi stiamo usando anche una carta curvata, guardate che bello, ovviamente se tende a scivolare la Perfect, mettiamo il classico dito così e facciamo un pelo di pressione. E ragazzi, guardate che bellezza, spettacolare, bellissimo, direi che è il momento di imbustare il mio Commander Rodimidollo, full pimp, full foil, finalmente. Molto bene, ragazzi, io volevo portarvi magari in qualcosina dove letteralmente imbustavo le carte, ma oggettivamente diciamocelo è una cosa abbastanza inutile, abbastanza lunga, abbastanza stupida. Io spero di avervi chiarito qualche dubbio nel caso vi servissero consigli, vi servissero review di questi prodotti. Quindi questo è ciò che io utilizzo per dei mazzi che costano, questa è la protezione totale che io appunto utilizzo per evitare che le mie carte si rovinino. Questi portamazzi, parentesi, proteggono anche tantissimo dall'umidità, quindi le carte si curvano molto molto meno rispetto al solito. consigliate il 100%, proprio top, se i vostri mazzi non sono full foil, full pimp, ci ballano dentro e io diritto però ho spazio per qualche token. Ovviamente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso fatemelo sapere qui sotto con un bel like e io so che possiamo arrivare a 50, dai che ce la facciamo. Naturalmente scrivete nei commenti se una cosa del genere vi può piacere ogni tanto prendere un prodotto, provarlo, recensirlo, mostrarlo il più bene possibile e calcolare un po' tutte le probabilità che quel prodotto sia o non sia utile alle vostre esigenze. Mi raccomando passate dalla nostra pagina Facebook per tutte le nuove novità del canale, speriamo ragazzi di poter ripartire alla grande il più presto possibile. ultimamente siamo un po' nelle curve, abbiamo qualche problema grave, ma state tranquilli che ce la faremo a risolverlo. E con questa bella tavolata da più o meno 15.000 euro di figurine, io vi ringrazio e vi saluto, ciao a tutti di Omega, grazie e alla prossima!